Buonasera, ben rivisti a questo appuntamento consueto con l'intervista pre-partita. Abbiamo il nostro coach fisso Giorgi Nibbio e il nostro DS Simone Zoni. Giorgio, abbiamo passato una settimana molto tribolata e sabato la partita sarà molto difficile, cosa ci dici? Tutte le partite sono difficili, prima facciamo la conta, vediamo domani chi riusciamo a mettere in campo e chi non riusciamo a mettere in campo e poi andremo in campo a giocarci nella nostra gara, sicuramente sarà una partita difficile perché loro vengono da un brutto 3-0 fuori casa e quindi in casa loro sono agguerite, però vediamo un attimino le ragazze come riusciranno a reagire. Simone, perché per te questa partita è così speciale? Per me è una partita speciale visto che collaboro con tutte e due le squadre, quindi per me è la partita, è un grande derby quindi spero di un grande spettacolo e vi aspetto tutti a Medole. Ok, l'appuntamento è a Medole, seguiteci sui nostri canali di YouTube, attivate la campanella e mettete un like. Forza Promoball! Grazie! 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 Grazie!